Sono quattro i nuovi casi di positività al covid-19 registrati oggi in Abruzzo, tutti localizzati nella Asle Lanciano-Vastocchieti. Questo è il risponso dei 1718 tamponi analizzati, 0,2% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 7 su 1260 tamponi analizzati, 0,5%. Dunque il totale nella nostra regione sale a 3197, 188 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.195, meno 21 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.389 con una diminuzione di 24 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 58.945 test, di cui 53.363 sono risultati negativi. Sempre per quanto riguarda il numero complessivo, 246 si riferiscono alla Asle Avezzano sul Monalacuila, 811 alla Asle Lanciano Vastocchieti, 1.491 alla Asle di Pescara e 649 alla Asle di Teramo.